Come ogni anno, anche stavolta le candidature al Nobel per la pace fanno discutere. Nel 2011 sono state premiate per questa categoria tre donne che hanno preso parte alla Primavera Araba per la loro lotta non violenta per la sicurezza delle donne e per i diritti di partecipazione delle donne in un processo di pace, come recita la motivazione del Comitato Svedese. Quest'anno tre candidati spiccano i nomi dell'ex presidente USA Bill Clinton, della Lady di Ferro Ucraina Julia Timoshenko ed anche quello dell'ex cancelliere della riunificazione tedesca Hermut Kohl. Il caso particolare, però, è quello della candidatura per la presunta talpa di Wikileaks, il soldato americano Brad Day Manning. Come ha spiegato il presidente dell'Istituto Nobel, Greg Lundestag, anche quest'anno ci sono degli abitué e delle new entry, alcuni famosi, altri sconosciuti, provenienti dai quattro angoli del globo. Con 188 individui e 43 organizzazioni, tra cui l'emittente panaraba Al Jazeera, i nomi in lizza quest'anno sfiorano il record raggiunto nel 2011 di 241 candidature. È quanto mai incerta, però, l'attribuzione finale del premio, per cui bisognerà aspettare fino al 10 di ottobre, anniversario della morte del fondatore Albert Nobel e data ufficiale della cerimonia di consegna dei premi. CRE, unico fra gli altri, sarà consegnato ad Oslo e non a Stoccolma. CRE, unico fra gli altri, sarà consegnato ad Oslo,